Nell'anticipo del girone B di promozione, l'ambizioso Miglianico si reca sul campo del porto con il chiaro intento di portare a casa l'intera posto in palio e rintuzzare in tal modo l'assalto alla battistrada Spallanciano. Tra i biancazzurri del presidente Paluzzi si segnalano numerose assenze importanti, compresa quella del tecnico di Zio costretto a dare forfè a causa di un grave lutto familiare. Nonostante il violento acquazzone che accompagnerà lo svolgimento della gara, il terreno di gioco sembra reggere bene nonostante le due compagini non riescano a sviluppare interessanti trami di gioco. Nelle battute iniziali gli ospiti provano a sfondare con Dell'Elce che di testa sperisce al lato sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina. Al tredicesimo il pericoloso diagonale di Cocco si perde alla sinistra della porta difesa da Di Giacomo. L'undici di Spadafora riesce a chiudere tutti gli spazi alla formazione avversaria che patisce oltre il dovuto all'assenza di un playmaker in mezzo al campo. Dopo un lungo periodo di stanca i nostri taccuini annotano il pericoloso diagonale di Cichella che al trentottesimo fallisce il gol per una questione di centimetri. Le punte biancazzurre scarsamente rifornite dai compagni non fanno nulla per mettersi in evidenza. Al quarantunesimo Alessandro Di Paolo appare piuttosto impacciato sottoporta mancando in tal modo il classico attimo fuggente. La gara si decide in chiusura di tempo grazie alla zampata dell'ottimo Cichella che per motivi di carattere meteorologico non abbiamo filmato il quale infila sottoporta il malcapitato di Giacomo. Nella seconda frazione la squadra di casa non riuscirà in alcun modo ad avvicinarsi concretamente in zona gol e a fine gara il portiere Di Camillo risulterà praticamente inoperoso. Anche il Miglianico tira i remi in barca e l'unica occasione da rete sarà rappresentata dal calcio piazzato del solito Cichella che trova sulla sua strada il numero uno pescarese. Alla fine i tre punti sono tutti per il Miglianico che rispetta in pieno i pronostici della vigilia mentre il porto disputa una prova in colore che non pregiudica in alcun modo l'ottima stagione sin cui disputata. Mister Spadafora tre punti pesantissimi quelli raccolti dal Miglianico sul difficile terreno del porto. Tre punti che fanno morale e soprattutto classifica. Sicuramente più classifica e morale perché la squadra comunque il morale ce l'aveva già alto. Veniamo da due vittorie consecutive. consecutive. Vinte come oggi, credo meritando. Infatti forse l'unico dubbio, l'unico rischio che avevamo oggi è la condizione del campo. Per fortuna retto. Siamo riusciti a addormentare la partita quando siamo andati in vantaggio. Porto ha cercato di impensierirci però siamo riusciti comunque a chiudere tutti i varchi. Difatti non abbiamo preso un tiro in Porto e quindi è bene così. Sicuramente all'inizio del campionato questa squadra, che è comunque stata allestita per vingerlo, abbiamo incontrato difficoltà proprio perché certi equilibri non ci stavano. Credo che dopo questa partita contro questo avversario, soprattutto su un campo del genere simile, abbiamo dimostrato di aver trovato una quadratura e quell'equilibrio che mancava. A questo punto la lotta al vertice è ristretta a poche squadre e tra queste ovviamente ci siete voi. No, non credo che è ristretta a poche squadre. Io credo che il campionato sarà ancora difficile, oltretutto è ancora in salita perché la Spallangione è distante di sei punti. Poi è chiaro che le partite bisogna giocarle tutte. Di conseguenza basta perdere una partita e si rimette tutti in discussione. Noi cercheremo di continuare la stice positiva. I mezzi ci stanno. La squadra oggi per l'ennesima volta, ma non solo oggi, ha dimostrato che c'è. È chiaro che se continuiamo così abbiamo buone probabilità rispetto alle altre. Però comunque non mi tiro fuori dal gruppone che potrà vincere questo campionato. Il Porto, secondo lei, ha bisogno di qualche ritocco? Magari di un cervello a centrocampo? Ma so che oggi mancano diversi elementi. Molte volte si è visto oggi col campo poi in questa maniera. Sì, molte volte qualcuno lì a centrocampo ne ha bisogno di questo tipo di squadra. Forse lì davanti magari qualcuno di peso che possa dare. Perché io non ho visto una cattiva squadra. Hanno cercato di giocarla la partita. Però un punto di riferimento gli manca. Quindi magari più che un centrocampista una punta di riferimento che faccia salire questa squadra e possa dare più concretezza. Sapevo di fatti che qui in casa il Porto si fa rispettare come si è fatto rispettare in passato. Quindi per noi questa cosa comunque... questa vittoria dimostra che la nostra squadra sta sicuramente in discesa per questo campionato. Roberto Baluzzi, dirigente del Porto, ovviamente deluso dal risultato di questa gara con una delle favorite alla vittoria finale. Sì, un'ottima squadra. Ce l'abbiamo messa tutta. Ci siamo difesi nel primo tempo. Poi loro ci hanno colpito. Ci hanno fatto golle. Quindi abbiamo provato nella prima parte del primo tempo. Poi secondo tempo ci abbiamo provato. La pioggia. Poi loro dietro sono forti. Un'ottima squadra. Sicuramente io credo che vincere il campionato. Ma non perché ci ha battuti. Comunque ci abbiamo provato. I ragazzi sono impegnati. Però ecco abbiamo perso. Ci sta nel calcio. Quindi questo è il risultato. E come si dice sempre il campo. Però avete perso in malo modo se vogliamo. Perché il Porto oggi non ha tirato praticamente mai in Porto. Infatti ho detto premesso che la vittoria ci sta tutta. Perché sono già due partite che non riusciamo a esprimere gioco. Purtroppo ci va male. Abbiamo fuori 3-4 elementi. non è per come si dice. Come scusa diciamo. Però c'è fuori Bartolomeo che è il nostro regista. Non riusciamo a far gira palla e poi a servire gli attaccanti in ottimo modo. Vaira è fuori già due settimane. Tutti i quattro gli stopper di ruolo li abbiamo tutti fuori. Non è una scusa. Però è qualcosa in più che ci potrebbe aiutare sicuramente a fare qualcosa in più. Siete ancora convinti che nel mercato di riparazione non bisognerà muoversi? Ma noi, come ha detto il Presidente, cerchiamo di valorizzare i ragazzi che abbiamo. Abbiamo 3-4-87 in rosa, molto bravi. Andiamo avanti così, poi vediamo. Poi vediamo che è qualcosa a centro campo. Però niente di concreto per il momento. Oggi tra l'altro il Porto era privo anche del tecnico, di zio. Sì, infatti ha avuto un lutto in famiglia e la società gli fa le condoglianze a lui e tutta la sua famiglia per la perdita del suocero. Quindi ci stringiamo intorno a lui e tutta la società ai dirigenti.